mi raccomando ricordatevi di rinnovare il tacco le suole le vostre scalpe un pochino prima di arrivare in questa situazione tac superstar vediamo tra i due tra me e te chi è superstar adesso ma il burro si parte sì in effetti un po troppo tardi però così respira aria condizionata cantava gigi d'alessio i dettagli che non si vedono la parte bucata del tallone è stata prima rinforzata dall'esterno poi risolettata dall'interno in modo che applicando il suo plantare originale sacchete con due mani sempre scomodo eccoci qua non ci sia più lo sfondamento ed eccola qua seconda vita per questa fantastica golden goose superstar gomma lisca di pesce della vibra abbiamo dato anche una robusta pulita pronte per un nuovo giro ricordate di mettere sempre i tendi scalpe nelle vostre calzature